Ciao a tutti Ciao a tutti E' questo qua AndromedaBeds.com Vediamo se mi fa vedere tutto il sito Eccolo qua www.andromedaBeds.com E Qui ho fatto Acquisti dove io vi consiglio Un sacco di comprare Le boccettine di vetro Che sono quelle che sono andata a pagare io Perché se non so se si vede bene Costano veramente poco E io le adoro E infatti ho fatto una bellissima scorta Di ben 70 Bottigliette Ne ho prese un sacco così sono tranquilla Per un po' ho speso 21 euro Perché a 30 centesimi l'una Sono veramente poche Poi ho fatto scorta anche di fimo Ho ripreso Il Quello color pastello color pesca Poi sempre Se ce la posso fare Colori pastello Ho preso quello acqua Quello azzurro Il rosa Ah si forse è meglio che vi faccio vedere i numeri Bene o male Eccoli qua E ovviamente Il Il lilla Che non rende mai nei miei video Poi mi sono buttata A comprare Quelli effetto quarzo E ho preso Questo qua Giallo Che è esattamente Il numero successivo Al giallo Del pastello Poi ho preso questi due verdi Anche questi sono i successivi Come numero al Al verde pastello Verde giada E poi Questi azzurri Che non seguono l'altro Che sono bellissimi A parer mio Blu agata Ecco Questi sono gli acquisti Che ho fatto questa volta Da Da Marika Che si chiama così la ragazza E come ogni volta che mi mandano omaggio Stavolta Mi ha mandato questo panetto Di fimo Che non vedo l'ora di provare Mettiti a fuoco Queste sono le nuove confezioni Quindi non c'è il numero Mi pare che c'è solo La scritta Ah si il numero è qua La ringrazio tantissimo È sempre gentilissima È un sito Che consiglio veramente tanto Molti mi chiedete sempre Dove trovo le boccettine E io vi indico sempre lei Perché mi trovo veramente bene Ne sono anni che acquisto da lei E quindi Io ve la straconsiglio E niente Questo è il primo acquisto Fatto su AndromedaBets Poi ne devono arrivare altri due E vi farò vedere anche gli altri Quello fatto dal sito BestClay E un altro fatto sul sito DecorStore Dove ho preso proprio solo appunto Fiocchetti Sabbie E pietre colorate Ciao 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 Grazie a tutti